Sì, sono l'idea web, con Alessia Marengo, schiacciatrice dell'LPM Bambini, uno degli otto volti nuovi di questa formazione 2023-2024, primo giorno di avventura, primi giorni d'ambientamento a Mondovì. Prima domanda Alessia, come sta andando? Ma per ora, da quello che ho potuto vedere, molto bene. C'è stato un ambiente molto accogliente per i pochi minuti che siamo stati qua, ma promette bene. Ecco, tu arrivi, diciamo che non sei esattamente forestiera alla provincia di Cuneo, dopo una stagione fuori un po' un ritorno nella provincia grande per te. Sì, esatto, un po' un ritorno a casa, dopo qualche anno che sono stata via, diciamo che sono quasi di casa. Un'ultimissima domanda, anche per te un'avventura nuova, quella della Serie A2, con che ambizioni e anche personali, con quei approcci? Allora, sicuramente cercherò di dare il massimo, è una bellissima possibilità per me e non vedo l'ora di iniziare, sono molto felice. Cosa ti porti dietro dagli ultimi anni passati in Serie B? Mi porto dietro un bel gruppo che spero di ritrovare e, non lo so, tante esperienze, ovviamente, come tutte le altre. Grazie mille. Grazie.